Ora la pallavolo in Serie 2 maschile continua il momento negativo della SIECO Service Ortona che anche in terra lucana a Lago Negro ha dovuto incassare l'ennesima sconfitta di campionato, un pesante 3-0 con questi parziali 25-19, 25-15, 25-20, gara che è durata meno di un'ora e mezza. In classifica un solo punto all'attivo per gli impavidi che domenica ospiteranno il quotato Motta di Livenza.